Ciao a tutti e benvenuti in altrimenti Gpils da Magist of Lotus. Oggi parliamo del Death Ray Shaman e un po' di lore ruling. Allora, la lore c'è abbastanza da dire perché comunque fa parte della gilda Golgari. Su di lui in particolare no perché è un mister nessuno, almeno per la gilda, non per noi. Ma sulla gilda in generale ovviamente c'è da dire. I Golgari sono la gilda di Ravnica molto forte che si basa sulla vita e la morte, infatti verde vita, nero morte. Però questo non lo sanno tutti, ci sono varie fazioni all'interno, magari poi subito sulla lore ne parliamo meglio nello specifico, e ognuno ha le sue agenda, cioè i suoi piani. Infatti non sono molto amici fra di loro. Infatti per dire, il capo della gilda è cambiato varie volte. Prima c'era una triade di Gorgoni, ammazzate, è arrivata Sabra, ammazzata, è arrivato Jared, ammazzato, è arrivata Vraska. Quindi non è neanche facile essere il capo dei Golgari. Vita e morte. Allora, sul Defray cosa posso dire interessante? La cosa importante è che la sua prima abilità non è un'abilità di mana, anche se aggiunge mana. Perché? Perché un'abilità di mana per essere tale deve essere un attivato o una linea scata, e questo lo è, per carità. Ma non deve avere un bersaglio e ne essere un'abilità che involva la lealtà, i segnalini di lealtà. I segnalini di lealtà perché tanto li ha neanche, ma ha un target e quindi questo non la rende un'abilità di mana. Quindi occhio perché si può rispondere a questa, perché normalmente l'abilità di mana non si può rispondere. Alla sua invece si può rispondere e quindi negarla, per esempio, esiliando la terra bersaglio. Alla prossima!